e vedo l'amico modestino ma non è solo buongiorno come si dice tu is magic one giusto siamo in coppia siamo in coppia anche bello ragazzi lo sapete ultimamente le coppie di fatto si portano l'importante è che siete una coppia di fatto ma che non stato fatto smettila fai il bravo cerca di fare il bravo anche perché il vostro compito è quello di regalarci come sempre delle migliori promozioni i migliori prodotti e ovviamente le più grandi informazioni che riguardano tutti i grandi prodotti di casa expert nel vostro caso in quel di avellino e allora buongiorno e delucidateci un po amici cari parliamo parliamo meglio introduciamo quello che la settimana del black friday abbiamo questo volantino che è partito praticamente ieri e ha delle ottime offerte con il 25 per cento sui piccoli e grandi elettrodomestici mamma mia e poi c'è una grande selezione tra telefonia informatica tv sempre con una bella percentuale di sconto quindi ovviamente affrettatevi dura solo questa settimana fino a domenica e vi aspettiamo nei negozi assolutamente bene 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 a contata chiave alle spalle della della cona per identificare più facilmente dove si trova il punto vendita veramente velocissimo sintetico pratico e io aggiungo veramente che gli amici di avellino sono sempre molto simpatici sempre molto loquaci e poi hanno uno store bellissimo visto che avete messo questi due capocchioni davanti fate vedere anche un po lo store quanto è bello e quanto è grave guardate la ragazzi cioè vi rendete conto di che cosa stiamo parlando cioè guardate la tpeed lo godin pensate che mio cugino è venuto ad acquistare un telefonino da voi nel 2018 e non l'hanno trovato di più devo contattare chi l'ha visto va bene ragazzi noi vi ringraziamo e ovviamente ci ritroviamo alla prossima puntata ricordiamo che quindi è partita finalmente la settimana del black friday voi fino al 29 l'avete ovviamente dal 14 l'avete anticipata quindi ottimo 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 vi abbracciamo vi ringraziamo e ci ritroviamo al prossimo appuntamento ciao ragazzi a te Luca grazie a te buon giornale